Questo è un video esclusivo. Prima di iniziare, ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella e lasciare un mi piace, grazie. Barbara D'Urso sta vivendo il sogno di tutte le fan di Emily in Paris, vivere un soggiorno nella capitale francese, tra pane e cioccolato e cocktail lungo i locali e i quartieri più movimentati di Parigi. La conduttrice di Mediaset sta attraversando un periodo di pausa dal lavoro, dopo aver condotto per anni i programmi di Mediaset senza mai fermarsi. Aveva bisogno di una pausa, Parigi le FA bene, ha commentato una fan. Anche lo stile della conduttrice sembra aver subito una trasformazione in positivo. Barbara D'Urso ha stupito i suoi fan quando ha condiviso un video in cui mostra il suo stile parigino con una gonna pantaloncino, short in inglese, che sta per diventare una tendenza per questo autunno. Sotto il video postato dalla D'Urso sono fioccarti i commenti dei suoi sostenitori più accaniti. Ti sei disintossicata da quel marcio! Sei più splendida che mai! Avanti tutta Barbara! Scrive un utente su Instagram. La minigonna te la puoi permettere benissimo! Hai due gambe fantastiche! Commenta un altro fan Ad accompagnare la gonna. Ci sono le calze con la riga nera che allunga le gambe e una camicetta bianca. Il cappello fucsia è un tocco di colore che illumina l'intera figura della conduttrice. E poi, la vera chicca imperdibile. La borsa di Dior. Più precisamente una saddle bed con tracolla da 3.800 euro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!